Le condizioni di sicurezza di trasporti e luoghi di ritrovo dopo gli ultimi provvedimenti del governo saranno al centro nelle prossime ore di una serie di incontri istituzionali anche a Bologna. Lo ha detto il prefetto Francesca Ferrandino che oggi ha visitato la sede RAE dell'Emilia-Romagna due mesi dal suo insediamento, incontrando giornalisti tecnici e personale. Il ruolo dell'informazione è cruciale, sottolineato ancora di più in un momento così delicato per il Paese. Allora sentiamo proprio le sue parole. Intanto si svolgerà una riunione del Comitato Provinciale dell'Ordine della Sicurezza Pubblica alla quale oltre al Sindaco della città di Bologna e che è anche Presidente della città metropolitana sono stati invitati a partecipare i dirigenti generali delle due aziende Unità Sanitarie Locali di Bologna e di Imola il Presidente dell'Azienda dei Trasporti e gli esponenti dell'Università. Questo per fare un punto di situazione di ciò che si è fatto fino ad oggi e per definire nuove linee operative alla luce dei nuovi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ciò che mi sento di dire però è che è importante l'utilizzo della mascherina, il distanziamento sociale e l'igiene delle mani. Credo che siano i tre strumenti necessari per poter dare la possibilità a questo virus di cambiare strada.